Salve Enzo Greggio, è lui non è lui, certo che lui, il colonnello Giulia, ci senta il colonnello, ma quando è che finirà questo caldo allucinante? Buonasera, un promontorio di alta pressione di matrice subsahariana sta interessando il nostro paese e le temperature aumenteranno progressivamente nei prossimi giorni, no per favore, per favore, c'è una buona notizia, meno male, queste temperature non potranno superare i 40, 42 gradi al massimo, ali giugliacci sui!